De Magistris è simpatico, è simpatico perché io mi domando come faccia a prendere in giro i calabresi. Uno che ha riempito di immondizia la città di Napoli che si ripromette di ripulire la Calabria. Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini parlando a Rosarno, R.C. Napoli entra al centro dello scontro in campagna elettorale per le elezioni regionali in Calabria tra il centrodestra e il candidato governatore De Magistris. Secondo Salvini, i fallimenti da sindaco del capoluogo partenopeo si riverberanno sull'azione di governo regionale in caso di elezione e per questo punta a utilizzarli in campagna elettorale. Si tratta dell'ennesimo capitolo dello scontro tra i due a cui farà sicuramente seguito una risposta del sindaco napoletano a breve.